buongiorno a tutti siamo arrivati finalmente all'ultimo video per quanto riguarda le schedine e bollettine del gigione ultimo video ultima sponsorizzazione come sempre il pronosticatore folle per quanto riguarda di tutto di più sulle schedine e bollettine opzioni vi regala veramente un sacco di opportunità da giocare poi se vi piace non lo seguite se no fate di testa vostra ma magari potete prendere spunto seconda sponsorizzazione l'interista dentro per quanto riguarda solo ed esclusivamente il campionato italiano con delle proposte come dico sempre secche partita per partita vi dice per me è così 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 queste sono le mie opzioni e infine mi sponsorizzo io veloce veloce da leccarsi le orecchie lunedì sera vi aspetto con la diretta del gigione e ne avremo da parlare ne avremo di argomenti c'è di tutto di più non sto ad anticiparvi nulla detto questo campionato francese paris saint germain digione 1 amiens metz 1x brest angers partita da tripla 1 2 tolosa ren x 2 monaco reims 1 montpellier strasburgo 1 x partite di domenica nant lille partita da tripla anche questa veramente eroni che aiuto 1 2 bordonizza 1 e lione cent etienne 1 schedina alternativa paris saint germain digione mi arrischio l'over 3 e mezzo anche perché l'over 2 e mezzo era ridicolo era veramente ridicolo o non lo giochi o rischi il 3 e mezzo vedete voi poi amiens metz under 3 e mezzo brest angers over 1 e mezzo tolosa ren over 1 e mezzo un po' rischioso perché ultimamente ren una volta segnava e faceva segnare gli altri diceva 2 a 3 1 a 2 ecc ecc adesso è lì che squiscio anche lui 1 a 0 1 a 1 però si spera che sia la volta buona monaco reims over 1 e mezzo montpellier strasburgo under 3 e mezzo partite di domenica nant lille ero molto incerto tra l'over 1 e mezzo e l'under 3 e mezzo però opto per l'under 3 e mezzo poi naturalmente uscirà l'over perché tu stai lì a ragionare a fare tu 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 e poi fanno quel cacchio che vogliono comunque vedete voi se fare over 1 e mezzo under 3 e mezzo io faccio under 3 e mezzo bordonizza over 1 e mezzo e poi mi faceva libidine lione santetiene il gol così mi è venuto come l'ho letto queste da gol così poi magari fanno lo 0 a 0 odioso e vabbè veniamo alle bollettine tolosa ren 2 bordonizza 1 monaco reims 1 lione santetiene 1 con 5 euro se ne vincono ben 55,20 quindi un pochettino a rischiare però ogni tanto le azzecco è anche queste seconda bollettina tolosa ren is 2 bordonizza 1 x monaco reims 1 lione santetiene 1 con 5 euro 21 euro e 90 terza bollettina tolosa ren x 2 piover bordonizza 1 x piover monaco reims 1 x piover e lione santetiene 1 x piover con 5 euro ne uscivano già 29,94 quindi la lascio così doppia piover quarta bollettina tolosa ren gol casa bordonizza gol ospite monaco reims gol ospite lione santetiene gol ospite con 5 euro 23 ore 59 è sempre un bel prendere è dura è dura perché sapete che il campionato francese a differenza di quello tedesco solitamente è parco di reti poi dopo ogni tanto esagerano quinta bollettina tolosa ren gol piover bordonizza gol piover monaco reims gol piover e lione santetiene gol piover con 5 euro ne vengono fuori 149,10 ed è clamoroso perché tolosa ren il gol piover è più o meno alla pari col no gol piove è leggermente favorito al no gol piove ma siamo sotto lo 0,25 di differenza per intenderci bordonizza stesso discorso più o meno alla pari il no gol piover è leggermente favorito ma siamo sempre sotto lo 0,25 di differenza quindi 0,10 0,15 tra uno e l'altro una fetecchiata infine monaco reims gol piover anche qui è favorito al no gol piover ma siamo sempre nell'ambito dello 0,10 0,15 di differenza infine lione santetiene danno per scontato il gol piover o comunque favorito al gol piover tenetene conto sesta bollettina solo cinque dita quindi comunque sesta bollettina e qui le cose cambiano allora tolosa ren due più gol bordonizza uno più gol monaco reims uno più gol e lione santetiene uno più gol con due euro se ne vincono 468,16 con 5 euro 1170,42 naturalmente in questo caso il no gol è favorito in tutte e quattro le partite lasciando naturalmente invariato il pronostico quindi ho fatto anche la bollettina col no gol perché sulla carta i due le le partite il no gol è favorito tra virgolette perché poi ripeto il no gol è favorito esce il gol il gol piovere favorito esce il no gol e quindi vabbè fanno un po come cavolo vogliano ogni partita poi lo sapete fa storia se si è visto giovedì in europa league comunque facendo tolosa ren due più no gol bordonizza uno più no gol monaco reims uno più no gol e lione santetiene uno più no gol con due euro se ne vincono 144,03 vabbè e con 5 euro 360,07 lì sta a voi scegliere la partita che vi acchiappa di più e magari metterla in bolletta insieme alle altre non giocate le tutte quattro a meno che non vi piacciono avete due euro la ma si giochiamoci due euro se la va la gaigan come se le dis a milan se no io vi do le dritte ma vi dico sempre le bollettine che creo a parte le prime tre quattro che ci stanno le ultime due sono giusto dei consigli e poi dopo sta a voi giocarveli nella maniera che vi fa più libidine detto questo io vi saluto vi ringrazio finito la tour de force e ci vediamo alla prossima ciao ciao